ola sono nel cortile dell'ostello prima della partenza quasi le sette stanotte incubo in modo ammito lasciavo un caldo boia e tipo al luna mi sono alzato sono andato a fare una doccia fredda e ho lasciato i piedi un po' sotto l'acqua allora mi sono un po' infrescato poi un po' d'ho amicchiato però tre ore forse massimo quattro spero stanotte va ieri sera cena con tapas tanta cervezza e bella compagnia bella pamplona città città veramente viva sacco di locali fighissimi posso dove divertirsi sicuramente a dopo un po' d'ho amicchiato un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti. È inutile che vi dica quanto sia bello. Il punto di ritrovo del gruppo Ital Santiago. Agua trattata. Arrivati in ostello a Puente La Reina. Caso strano, siamo tutti italiani. Puente La Reina. Oggi 24 chilometri, è pazzesco, è veramente fantastico il paesaggio, è incredibile. Peccato che è pazzesco anche il caldo, il sole veramente. Ha cotto il cervello a tutti quanti, siamo arrivati in gruppo facendo una tirata, un paio d'ore filate. Siamo arrivati a luna e mi sono fiondato subito in ostello. Un ostello tipo Pader Bonne o una cosa del genere, è un ostello a 7 euro, fantastico. E dentro c'è tutto quello che serve, la vanteria, sono parecchie docce. Gli letti hanno tutti questi mateassi, anche negli altri ostelli, tipo di gomma, ti danno il lenzone o lusegetto da mettere sopra. E quindi, insomma, risulta anche pulito, no? Poi si è mangiato qualcosa, adesso in centro, a un bar, si pensa poi a una cena comunitaria. E domani, boh, non lo so, non ho idea la tappa di domani quanti chilometri sia. Si scoprirà strada facendo.